Musica Sette anni fa il terremoto dell'Aquila, tra le 309 vittime e anche due studentesse di Pugianello ed Amorosi, il sannio non dimentica Maria Urbano e Carmen Romano. Tragedie familiari a pianura, padre strangola suo figlio durante una violenta lite in casa. Soldi promessi ai casalesi per vincere le elezioni, arrestato consigliere ed ex assessore all'ambiente del comune di Santa Maria, Capoavetere. Consigliere comunale sfascia carrozze nei guai per il 55enne di Calabritto, arresti domiciliari. A Ferrara, al Salone del Restauro, arriva il ministro Franceschini, un'opportunità anche per le bellezze della Campania. Piazza Corpo di Cristo di Pagani gremita per ascoltare i ritmi e le note di Enzo Avitabile e i Bottari. Chiude così la festa della Madonna delle Galline. Nuovo appuntamento con l'informazione targata a Media TV. Lo abbiamo sentito dalle nostre anticipazioni, tante le vittime del terremoto del 2009 che ha sconvolto il 6 aprile di 7 anni fa l'Aquila e i paesi intorno. E oggi, come allora, la città si ferma e ricorda fratelli, figli, genitori, mariti e mogli morti sotto le macerie. Tra i 309 morti del sisma ricordiamo anche due giovanissime studentesse della provincia di Benevento, Maria Urbano di Pugianello e Carmen Romano di Amorosi. Il primo corpo fu recuperato, fu quello della 21enne di Amorosi, studentessa universitaria iscritta alla Facoltà di Economia e Commercio, che viveva in una palazzina di 5 piani nei pressi della sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Quello della 20enne di Pugianello vivevano insieme e venne ritrovato poche ore dopo, nella tarda serata del 7 aprile. Si salvò invece Marino, 24 anni, fratello di Maria, che abitava a pochi metri dalla casa della sorella. Oggi l'Aquila è ancora un cantiere a cielo aperto. I'm so tired of being here I'm so tired of being here Suppressed by all my childish fears And if you have to leave I wish that you would just leave Your presence still lingers here Your presence still lingers here And it won't leave me alone These wounds won't seem to heal This pain is just too real There's just too much that time cannot erase When you cried I'd wipe away all of your tears When you'd scream I'd find away all of your fears And I held your hand through all of your fears And I held your hand through all of these years Captivated me by your resonating light Now I'm bound by the life you left behind Your face it haunts My once pleasant dreams Momenti di tensione sul lungomare di Napoli Tra le forze dell'ordine e un gruppo di manifestanti che ha partecipato al corteo di protesta contro l'arrivo in città del premier Matteo Renzi Sono stati sparati lacrimogeni e anche alcune bombe carta La gran parte del corteo si è divisa e allontanata dal punto di scontro dove sono restati solo alcuni manifestanti che hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine le quali hanno azionato gli idranti Quattro palizziotti si apprende da fonti della questura di Napoli Sono rimasti feriti dal lancio di pietre effettuato da alcuni manifestanti all'altezza dell'incrocio tra via Partenope e via Colonna Muore a 53 anni 5 giorni dopo essersi fatta introdurre nello stomaco un palloncino intragastrico Francesca Esposito di Santa Anastasia voleva solo dimagrire invece è morta per cause ancora tutte da accertare Tragedia familiare a pianura padre strangola suo figlio durante una violenta lite in casa Il servizio La polizia sta facendo indagini per ricostruire i motivi della lite Una lite finita in tragedia a pianura nella sera di martedì 5 aprile un uomo di 67 anni Santo Avaiano durante una furibonda discussione in famiglia infatti strangolato suo figlio Massimiliano di 42 anni è successo in uno stabile al numero 45 di via Castaldi e Sequino Sul posto è intervenuta la polizia che ha fermato il padre omicida Il delitto è avvenuto intorno alle 21.30 all'interno dell'abitazione della famiglia al quinto piano dello stabile a dare l'allarme al 112 è stata la moglie di Santo Avaiano che ha detto ai carabinieri correte c'è stata una disgrazia la chiamata è stata girata alla polizia che si trovava nella zona di pianura all'arrivo in casa gli agenti hanno trovato Massimiliano Avaiano già morto e il padre in stato di shock Sembra secondo il racconto della donna in evidente stato di shock anche il che padre e figlio abbiano cominciato a discutere animatamente poi la lite è divenuta sempre più accesa e i due sono passati alle mani ad un tratto in preda all'esasperazione il padre santo ha afferrato il figlio e gli ha stretto le mani al collo fino a strangolarlo Massimiliano è stramazzato al suolo esamine la madre disperata ha preso il telefono e ha chiesto aiuto l'omicida è stato bloccato e si è subito mostrato collaborativo Massimiliano Avaiano viveva in casa con il padre e la madre scoperte due fabbriche del falso operazione della guardia di finanza in provincia di Napoli vediamo i dettagli sequestrati appoggio marino e nola in provincia di Napoli due opifici clandestini appoggio marino i finanziari del comando provinciale di Napoli hanno scoperto una sartoria di circa 130 metri quadrati abusiva e gestita da una cittadina cinese in cui venivano realizzati capi di abbigliamento low cost gli operai erano costretti a dormire insieme a tre minori in una stanza con cucina priva delle minime condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza privi di un regolare contratto di lavoro e con turni particolarmente prolungati i militari della compagnia di Nola hanno invece scoperto una fabbrica del falso ricavata nella sottoscala di un immobile residenziale sprovvisto dei requisiti minimi di sicurezza nei locali di circa mille metri quadrati sono stati trovati oltre 107 mila capi di abbigliamento contraffatti cucitrici impianti di stiraggio e diversi metri di tessuto a lavorare all'interno della sartoria c'erano 12 extracomunitari senza regolare contratto di lavoro i titolari degli opifici e delle ditte sono tre italiani e altrettanti extracomunitari che sono stati denunciati i periati che vanno dall'obuso edilizio all'illecito smaltimento di rifiuti alla contraffazione soldi promessi al clan dei casalesi per vincere le elezioni arrestato consigliere ed ex assessore all'ambiente del comune di Santa Maria Capavitere comune che tra l'altro si appresta proprio a rinnovare il consiglio il servizio favoriva il clan per ottenere più consensi i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di caserta hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di Alfonso Salzillo già consigliere ed assessore del comune di Santa Maria Capavitere il provvedimento cautelare è stato emesso all'esito di un'attività investigativa svolta tra il 2014 e l'agosto 2015 attraverso attività tecniche e dinamiche confermate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno indicato l'ex amministratore locale quale referente nei rapporti tra la pubblica amministrazione e la criminalità organizzata per conto del gruppo riconducibile a Nicola Schiavone esponente del clan dei Casalesi figlio del ben più noto Francesco Schiavone detto Sandokan capo del clan e attualmente ristretto il regime carcerario ex articolo 41 bis le indagini hanno permesso di provare la rivelazione da parte dell'indagato da alcuni componenti del clan dei Casalesi di informazioni circa l'apertura di nuovi cantieri sul territorio al fine di consentire la formulazione di richieste estorsive da parte di esponenti del clan stesso inoltre è stato appurato come salzillo si sia prestato al cambio di assegni bancari allo scopo di impedire la ricostruzione della provenienza e come da candidato alle elezioni amministrative del 2011 per la carica di consigliere comunale di Santa Maria Capovetere per ottenere a proprio vantaggio il voto elettorale egli abbia promesso a due esponenti locali federati con incrande Casalesi la somma di 30 mila euro per il loro appoggio elettorale contestualmente l'esecuzione della misura è stata sottoposta a sequestro un'attività commerciale nel settore caseario con sedi a Curti e Ischia due appartamenti un fabbricato rurale un terreno nonché titoli di credito e rapporti bancari tutti a lui intestati del valore complessivo di circa 600 mila euro durante la prova scritta per il conseguimento della patente di guida presso la motorizzazione civile di Caserta è stato scoperto con una microcamera ed un auricolare per questo la polizia di Caserta ha denunciato un uomo di 30 anni di Maddaloni l'accusa è di falsità ideologica avendo utilizzato congegni elettronici per comunicare all'esterno i carabinieri questa volta della stazione di Ailano a seguito della segnalazione pervenuta alla centrale operativa della compagnia di Piedi Montematese da parte di un militare dell'arma in servizio al comando provinciale carabinieri di Isernia hanno proceduto all'arresto in fragranza di reato per attentato furto in abitazione di quattro donne queste ultime residenti a Mondragone le donne sono state notate dal militare mentre si introducevano nell'abitazione di un'anziana donna appunto di Ailano al momento sola in casa la scorsa notte ignoti hanno forzato il postamat dell'ufficio postale di Cusano Mutri asportando dal suo interno la somma contante di 25 mila euro sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e quelli del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cerreto Sanita che hanno proceduto ai rilievi del caso gli agenti della volante di Benevento hanno tratto in arresto una 28enne di nazionalità romena per tentata estorsione e lesione ai danni di una prostituta di 22 anni anch'essa di nazionalità romena secondo una prima ricostruzione la 28enne domiciliata a Napoli avrebbe picchiato con calci e pugni la connazionale perché non le avrebbe versato la percentuale sugli incassi la donna dopo le formalità di Rito è stata tradotta in carcere a disposizione della sostituto procuratore Saccone consigliere comunale sfascia carrozze nei guai nuova misura per il 55enne di Calabrito questa volta agli arresti domiciliari vediamo ci accedeva in continuazione ma non avrebbe potuto ha violato più volte i sigilli di un'area sequestrata per reati ambientali il suo obiettivo era alienare pezzi di ricambio e veicoli anche quelli sequestrati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Montella hanno eseguito un'ordinanza coercitiva agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Avellino sottoponendo alla misura appunto cautelare degli arresti un 55enne consigliere comunale di Calabrito la vicenda ha avuto inizio nel 2013 quando i carabinieri della locale stazione unitamente a quelli di Montella sequestrarono due grosse aree 5.000 e 7.000 metri quadrati circa con all'interno un capannone di 900 metri quadrati dove erano stati accantonati parti di automezzi non bonificati e sversati nel tempo rifiuti di ogni genere il gestore delle aree fu denunciato in stato di libertà per deposito incontrollato di rifiuti gestione illegale di una discarica ed inquinamento ambientale a seguito delle attività svolte il consigliere chiese d'ottenne il dissequestro dei siti garantendo la bonifica dei terreni e lo smaltimento nel rispetto delle norme vigenti dei rifiuti pericolosi e non ma un ulteriore sopralluogo effettuato qualche mese dopo dai carabinieri congiuntamenti ai vigili del fuoco permise di accertare che l'imprenditore non solo non aveva ottemperato alle disposizioni ma aveva continuato ad esercitare la sua attività di sfascia carrozze realizzando in un capannone una vera e propria officina abusiva l'area ancora una volta fu sequestrata ed affidata in custodia al consigliere che da quel momento iniziò a violare i sigilli sottraendo pezzi di ricambio verosimilmente per la successiva vendita lo scorso gennaio nonostante la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria l'imprenditore è stato beccato nuovamente all'interno dell'area sequestrata appena ci verrà notificata procederemo alla trascrizione Carmine Ragano sindaco di Santo Stefano del Sole il piccolo centro di 2000 abitanti in provincia di Avellino dove risiedono Giuseppina e Raffael darà corso senza indugio alla trascrizione nei registri dell'anagrafe comunale dei due figli della coppia arcobaleno la figlia di Giuseppina di 13 anni e quello di Raffael di 3 che le due donne hanno concepito grazie a inseminazioni artificiali negli ospedali di Bruxelles e in Spagna il sindaco si adeguerà così alla sentenza con la quale ieri la Corte di Appello di Napoli ha ordinato la trascrizione delle sentenze del Tribunale Francese con le quali si riconosceva l'adozione reciproca dei due bambini Oggi Mauro Felicori il direttore della Regia di Caserta a Benevento per una visita guidata ai siti storici e archeologici più significativi della città A Ferrara invece è in corso il Salone del Restauro interviene anche il Ministro Dario Franceschini che dichiara un'opportunità questa anche per le bellezze della Campania Sentiamolo Ministro a Nocero a Ferrara è una grande opportunità l'acquisizione della Caserta Armatofano per un museo archeologico di riferimento nazionale Sì è una grande opportunità per una regione che ha delle potenzialità enormi lo si vede anche dai dati di questi mesi la Campania sta crescendo la presenza turistica molto più del resto d'Italia era naturale giusto e era anche ora che fosse così Un collegamento diretto con Pompei questo è importante Beh è una grande opportunità Napoli arriva a alta velocità arriva all'aeroporto quindi i minari arrivano davanti a Pompei sia della circonvesuviana che delle ferrovie dello Stato e quindi mettere a sistema questo consentirà di insomma di Piazza Corpo di Cristo di Pagani gremita per ascoltare i ritmi e le note di Enzo Avitabile e i Bottari chiude così la festa della Madonna delle Galline il servizio Can solo siente il personaggio è un traffice in mano 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 Grande successo per il concerto di un salutabile di Bottari, gli artisti che hanno chiuso i festeggiamenti in onore della Madonna delle Galline Appagani in una piazza Corpo di Cristo grenita per l'edizione 2016 del Ritmo Festival. Centinaia di persone hanno ballato guidati dal maestro Partenopeo che ha festeggiato il proprio onomastico insieme ai presenti. Avitabile ha da sempre ribadito il suo amore e il rispetto per la Madonna delle Galline, un evento che crea solidarietà, accoglienza e aggregazione sociale dove il rituale viene continuamente rimesso in vita e non musealizzato. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS E siamo ora alla pagina sportiva Serie A. Oggi doppia seduta di allenamento differenziato per Reina. Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castelvoltuno dopo la gara di Udine. Gli aggiori preparano il match con il Verona al San Paolo per la giornata numero 32 di Serie A. La presenza di Gonzalo Higuain al dibattimento per il ricorso contro la squalifica di quattro giornate è un'ipotesi assolutamente concreta. Lo ha detto Mattia Grassani, avvocato che difende il Napoli calcio legale aggiunto. Higuain ha volontà di spiegare i fatti in prima persona ed è un suo diritto. Ha chiesto di essere sentito personalmente per mostrare la sua ricostruzione sull'esito del ricorso in cui il Napoli punta a dimezzare la squalifica da quattro a due giornate. Serie B, Avellino in infermeria, la squadra che affronterà il Pescara venerdì al Partenio Lombardi dovrà fare a meno di Migliorini, Gidai, Gavazzi e Rea. Lega Pro, Girone C, sarà Carlo Amoroso di Paola a dirigere la sfida dello Stadio Pinto, Casertana-Foggia. Il big match è in programma sabato 9 aprile alle ore 17.30. Singola seduta, sempre sul rettangolo verde di Paduli. Il Benevento prepara invece la gara di lunedì quando alle ore 20 al San Vito affronterà la formazione del Cosenza. Era questa l'ultima notizia di sport, vi lascio come sempre in compagnia delle previsioni del tempo e della nostra programmazione. Arrivederci e alla prossima edizione. Previsioni per giovedì 7 aprile. Tempo in peggioramento sulle Alpi, al nord-ovest e sulle due isole maggiori, entro sera un po' ovunque. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it. Al nord, come detto, peggiora al nord-ovest con piogge e temporali diffusi. Piogge anche sulla Liguria di Levante e via via più nuvoloso sul resto delle regioni con piogge che raggiungeranno il nord-est in serata e nottata. Al centro peggiora in Sardegna con piogge e nubi in aumento sul resto delle regioni con prime piogge che bagneranno dalla serata. Raggiungiamo anche il sud dove peggiora con temporali e locali grandi nate. In Sicilia, nuvoloso altrove con deboli precipitazioni entro sera, più sole invece in Calabria. I venti saranno forti sullo Ionio, deboli e variabili altrove. Neve sulle Alpi dai 1800 metri fino ai 1500 metri dalla serata. Temperature. Minime in locale e leggero aumento. I valori saranno compresi tra 8 e 16 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno prevediamo 15-23 gradi al nord, 14-23 gradi al centro e non più di 20-21 gradi al sud. Grazie. Grazie.